Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio della DAPS Genovese Zenzero. La conferenza di oggi fa parte di un ciclo di incontri che abbiamo iniziato nel 2001 in occasione dell'anniversario dei vent'anni del G8 di Genova, tristemente famoso, ed era il periodo in cui si cominciava a parlare di transizione ecologica e della quantità ingente di soldi che avrebbero dovuto arrivare col PNRR. Allora abbiamo cominciato a chiederci quale transizione ecologica vorremmo noi e su questo abbiamo iniziato a invitare esperti di vari campi, chiedendo il loro parere e cercando di approfondire gli argomenti per fare informazione, divulgare le informazioni ma anche tentare di fare informazione, perché come diciamo ormai da un po' di anni le buone intenzioni non bastano più, occorre avere delle nuove conoscenze e divulgarle. The best practice si diceva prima aspettando l'inizio della conferenza. Tutti gli incontri che sono stati fatti, anche i futuri, si svolgono in presenza allo Zenzero e online su Zoom. Sono tutti registrati e si può scaricare e ritrovare la registrazione sui nostri siti, sito dello Zenzero nella sezione attività e sito di Ecoistituto nella sezione progetti. L'incontro di oggi abbiamo voluto intitolarlo gestione delle miniere urbane, perché oggi incontriamo Tiziana Merlino, cenovese responsabile di Amio e Danilo Vismara della corrispondente AMSA di Milano. E perché miniere urbane? Perché vorremmo mettere l'accento sul fatto che è necessario pensare a recuperare, riciclare, riutilizzare, famosa R di Latuscia si diceva una volta, perché con il tasso di importazione di materie prime che ha l'Italia, ma anche l'Europa, distruggere, mandare incendere tutto sarebbe veramente un delitto. Su questo raccontavo con Federico stamattina un aneddoto. Io prendo un vino di nicchia della Liguria, che si chiama Rossese, da una cooperativa agricola di Albenga. Per Pasqua ho telefonato, ho chiesto, avete la possibilità di mandarmi una scatola di sei, no? Come al solito. E loro mi hanno detto, eh, il vino ce l'abbiamo, ma ci mancano le bottiglie. Perché la pandemia e la guerra dopo ci ha insegnato come le cose a cui eravamo abituati, normale, a volte non si trovano più. O perlomeno, quando si trovano, sono aumentate tantissime. Questo per dire a che punto siamo. Prima di passare la parola al Circolo Zenzero, dove Federico Valerio ci avvierà la conversazione, ci introdurrà gli ospiti, volevo ricordare che per partecipare alla discussione finale preferiamo che le domande vengano poste in chat e vi chiedo la cortesia di tenere spenti i microfoni e video per una migliore gestione della conferenza. Un'ultimissima cosa, ringrazio Cristo perché ci fornisce il collegamento Zoom e ci seguo pazientemente durante le nostre conferenze. A te Federico. Buonasera, buonasera a tutti i nostri due ospiti e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ora appunto abbiamo qui presente Tiziana Merlino che è una dirigente di Amio, Amio è l'azienda municipale di Genova Urbana di Genova. Lei è responsabile per la comunicazione, cura i rapporti con i portatori di interesse e cura anche la gestione dei flussi, diciamo, dei materiali. La Milano è qui con noi, Danilo Vismara che è dell'azienda milanese Servizi Ambientali AMSA e responsabile dello sviluppo dei servizi operativi, della valutazione del livello di gradimento del pubblico, questo è un aspetto molto interessante e si occupa anche di una, è anche amministratore unico di una società un po' particolare, si chiama Laborae che ne parleremo perché è molto interessante. Io chiederei a questo, per introdurre il tema, chiederei a Maria Teresa di farci vedere la prima slide che è quella che in qualche modo pensavamo di utilizzare per introdurre l'argomento di questa serata. Prego Maria Teresa. Ecco, il primo cartello è questo, praticamente abbiamo fatto, tutti i dati che vedete riportati in questa tabella sono stati impresi dall'edizione 2002 dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca sull'ambiente, ISPRA, quindi un organismo di ricerca istituzionale che in modo standardizzato fa ogni anno il rapporto in generale sulla qualità dell'ambiente del nostro paese, ma in particolare per quanto riguarda l'argomento stasera su tutto quello che riguarda il problema di quelli che si continuano a chiamare rifiuti, ma che in questa tabella, come potete vedere, vengono chiamati materiali post-consumo. Allora, gestione materiali post-consumo, perché questo termine un po' nuovo? Perché, come direi, è stata una mia idea che ho lanciato qualche tempo fa, che è stato ripreso, perché nel termine che normalmente è simile a quello di rifiuti c'è ovviamente una connotazione negativa, non c'è un affare. Qualcosa che stiamo pensando che sia una vera e propria miniera, una risorsa, forse è il caso di dargli il proprio nome, un nome più neutro, quindi materiali post-consumo, materiali che hanno finito il loro ciclo di vita e ne possono cominciare uno nuovo. I dati che vedete sono appunto aggiornati al 2021. Ovviamente le due città che mettiamo in qualche modo a confronto, Milano e Genova, hanno una diversa popolazione, quindi ovviamente bisogna tenere conto 1.300.000 abitanti circa a Milano, 560.000 a Genova. Vediamo la produzione di materiali post-consumo. Milano sono 629.000 errotte tonnellate contro 289.252 tonnellate di Genova. Quindi quantità importanti che, se però poi andiamo a vedere qual è la produzione pro capite, c'è un dato interessante che forse poi meriterà di essere discusso durante questa chiacchierata. Nel senso che Milano ha una produzione pro capite più bassa di poco, ma più bassa di quanto riguarda Genova. Ora, vi volevo focalizzare la vostra attenzione sulle quantità prodotte. Ora, 629.000 tonnellate sono tanto poche. Ecco, visto che parliamo di miniere, sarà interessante, come dire, darvi questa informazione. Nella miniera di carbone del Sulcis, che se non ricordo male è l'unica miniera italiana di questo minerale, nel 1957, quindi ancora in piena attività, venivano ricavate ogni anno 960.000 tonnellate di carbone. Quindi una miniera in Sardegna produce una quantità, produceva una quantità di materiali con valore, ovviamente, intrinseco, molto simile a quello che produce oggi Milano. È una quantità, ovviamente, come dire, molto differenziata, ne parleremo, ma sicuramente è meglio, piuttosto che parlare di rifiuti, dire di cosa sono, la loro composizione. Quindi stiamo parlando di metalli, appunto, alluminio piuttosto che acciaio, di silicati, il vetro, parliamo di lignina piuttosto che cellulosa per quanto riguarda le sostanze organiche, eppure anche, e così via, diciamo, materiali che hanno una loro caratteristica, comprese le plastiche, che hanno, poi vanno come nomi specifici, polietilene piuttosto che polieterestalato, che sono la composizione chimica di tutte le varie bottiglie o usegette che utilizziamo. Quindi materiali che sono stati lavorati, hanno al loro interno, come dire, un valore intrinseco, che è proprio l'energia, che è ovviamente anche l'ingegno, che ci è voluto per realizzarle, e che vale la pena, appunto, recuperare. Quante le recuperiamo? Ecco, qui vediamo i dati in l'ultima colonna, la raccolta differenziata a Milano, piuttosto che a Genova. A Milano nel 21 eravamo al 62,5% e a Genova al 39,9%. Ripeto, questi sono i dati ufficiali stimati da Ispra, quindi, ripeto, con tecniche uguali per tutte le città italiane. Ora, quello che ci dice questo, che puoi andare più giù, a estendere lo slide, se possibile. Però, quello che ci dice questa immagine è che, quindi poi sentiamo anche il parere di reti interessati, che sia Milano, che pur appunto avendo una performance migliore rispetto alla colla differenziata, che Genova, non hanno raggiunto quello che è l'obiettivo minimo che era previsto per questi, fin dal lunedì del 12, che era il 65% di raccolta differenziata. Quindi, pur con la loro performance interessante, che è il punto di Milano, anche Milano non ce la sta facendo. E questo può essere un argomento della nostra conversazione. Maria Teresa mi passa la seconda slide. Vediamo se questo era un obiettivo appunto nel 2021. Sì, arrivo. A livello italiano e europeo avremmo dovuto arrivare al 65%, c'è un altro obiettivo. Questo obiettivo riguarda, è più in là, che il 2030, ma gli anni passano veloce. Quindi l'Unione Europea e anche la nostra legislazione ha ricepito questo nuovo obiettivo, cioè che bisogna mettere i nuovi cicli produttivi, quindi con un vero e proprio recupero di materia, quindi questo bisogna esplicitarlo, il 60% di materiale post-consumo, quindi di quello che è stato raccolto in modo differenziato, quel 65% e oltre, il 60% se ne deve andare come recupero di materia. E per quanto riguarda gli imballaggi, l'obiettivo è più ancora più stringente, il 70% degli imballaggi, quindi lattine piuttosto che bottiglie di plastica, devono essere recuperati come materia. Quello che appunto nel 2021, a livello nazionale, questo è un dato di un vario interessante, il 64% di materiale di consumo è stato differenziato. Per quanto riguarda l'utilizzo a livello nazionale, Ispra non è in grado di fare dei conti molto dedicati regione per regione, dopo provincia per provincia, ma stima che il 48,1% di tutti i materiali post-consumo che sono stati recuperati, prodotti in Italia, siano stati riciclati nel vero senso della parola, quindi recuperati come materia. Di qui partiamo, quindi questa è un po' una fotografia dello stato dell'arte in generale e di quello che riguarda le due città che adesso esameremo. Io adesso volevo, però prima di andare a vedere la situazione attuale, chiedere ai nostri due ospiti, in particolare cominciamo da Milano, quindi a Vismara, che diamo informazioni su quello che è stato, come dire, una crisi che ha dovuto affrontare la città, prima appunto Milano, che Milano nel 1995 affronta un'emergenza di rifiuti anche abbastanza importante. Volevo che appunto Vismara ce ne parlasse, perché era importante capire come, partendo da questa crisi, quali sono state le cause, i motivi che l'hanno provocata e come poi la città in generale, l'azienda che allora si occupava di gestire appunto gli scarti milanesi, come ha reagito e quale soluzione ha trovato. Vismara, a lei. Sì, grazie. Beh, innanzitutto grazie per la possibilità stasera di scambiare questi scenari che comunque accomunano molto la città di Milano con la città di Genova. Noi ci siamo sentiti con Tiziana Merlino proprio perché secondo me era corretto anche capire come essere più efficaci possibili in questo tipo di contesto. Rispetto ai dati che avete proiettato e adesso la richiesta, magari se riesco poi a condividere una slide, vediamo un po' questo sviluppo che c'è stato della raccolta differenziata a Milano a partire appunto dall'emergenza di rifiuti che citavate. Diciamo che volevo già anticipare che ciò che accomuna le nostre aziende, che sono aziende di raccolta, che poi sono chiaramente integrate con degli impianti, ma nel caso di Milano, recentemente con la fusione di AMSA all'interno del gruppo A2A, noi di fatto abbiamo poi un'offerta di impiantistica importante che ha sicuramente aggelvolato e migliorato le performance in termini di raccolta differenziata. Perché dico questo? Perché chiaramente la raccolta non può essere disgiunta dagli impianti finali. Quindi un'ottima raccolta, se poi non è a valle dei sistemi efficienti, efficaci, e qui c'è anche tutto il discorso degli impatti logistici, ecco, allora è chiaro che il modello non si chiude, non diventa circolare come un po' il modello di riferimento. Comunque, partendo dalla storia, perché ci può assolutamente aiutare. Il grafico, che è un grafico che magari molti conoscono, perché è un po' il, diciamo, la fotografia di quello che è stato lo sviluppo della raccolta differenziata e quindi dell'avvio dei materiali post-consumo. Mi piace questa espressione, perché rende l'idea di come più volte la normativa europea ha evidenziato questo aspetto, come il rifiuto non viene più concepito come qualcosa da allontanare dalle nostre abitazioni, dalle nostre attività produttive, ma può diventare effettivamente una risorsa che viene con una serie di procedimenti trasformata nuovamente in materie prime. Quindi anche il tema della miniera urbana è molto interessante, perché in un'espressione sintetica che stamattina condividevo con Tiziana, è un po' stato il lavoro di questi anni da parte del Comune di Milano e della sua azienda che da prima municipalizzata poi è diventata azienda SPA e poi di fatto è entrata a far parte del gruppo pubblico privato di A2A, ha concepito un laboratorio circolare, un laboratorio urbano in cui sempre di più il ruolo di chi deve erogare i servizi di raccolta non può essere distinto dall'utilizzo finale, un utilizzo che sempre di più è orientato a recupero di materie. Tornando però a questo grafico che secondo me è molto evocativo, voi vedete che la situazione di emergenza che noi abbiamo avuto diciamo attorno al 94-96 a Milano è legata strettamente al fatto di avere da un lato chiuso le ultime discariche disponibili in Lombardia per il conferimento dei rifluti differenziati e avere ahimè ancora degli strumenti di raccolta selettiva delle frazioni principali riciclabili mi riferisco innanzitutto alla carta e il vetro ancora legate a delle forme diciamo non particolarmente ricettive. Per spiegarmi meglio nel 93 erano partite le prime raccolte di carta e vetro fatte con campane quindi con contenitori stradali pochi rispetto chiaramente a quello che era il potenziale di conferimento ed erano partite alcune raccolte di frazioni imparicolose mi riferisco soprattutto alle pile piuttosto che ai farmaci e altro sviluppo che poi comunque era legato già a una voglio dire a delle modalità presenti in forma non organizzata o comunque non gestita dalla nostra azienda ad esempio di raccolta degli abiti dismessi che venivano realizzati all'interno delle parroti quindi questa era la rete di raccolta molto limitata rispetto invece a una produzione soprattutto di imballaggi in carta di vetro e anche di plastica che era notevole e finiva di fatto nella raccolta dell'indifferenziato che quindi di fatto poi era strettamente dipendente dalla possibilità del conferimento di scarica con questa crisi quindi con una chiusura degli intanti di interramento del territorio lombardo a servizio del comune di Milano è chiaro che il comune insieme ai tecnici di AMSA hanno dovuto accelerare quello che è proprio il modello poi di riferimento a cui tutta la normativa nazionale ed europea fa riferimento cioè quella di limitare al massimo l'utilizzo della discarica e avvalersi il più possibile sia del recupero di materia che del recupero energetico per quanto riguarda appunto l'avvio a trattamento finale dei propri rifiuti quindi di fatto che cosa è successo che proprio in quegli anni di crisi da un lato si è accelerata di fatto la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione ma la cosa importante è ricordare che proprio in quegli anni dopo una sperimentazione è stata avviata gradualmente su tutti gli stabili condominiali della città di Milano una raccolta porta a porta fatta con dei cassonetti condominiali che sono poi questi che vedete di cui ogni stabile era adottata allora partiamo anche da delle caratteristiche molto peculiar della città di Milano Milano ha sempre avuto una raccolta domiciliare dei rifiuti questo proprio per far capire la differenza rispetto a Genova piuttosto che ad altre realtà anche lombarde in altre città servite da società operative del gruppo A2A mi riferisco ad esempio a Brescia piuttosto che a Bergamo esiste di fatto una raccolta fatta con cassonetti stradali che da questo punto di vista non era possibile a Milano per gli spazi estremamente ridotti ma per un elemento molto caratteristico e realtà fortunato perché già le prime abitazioni degli anni 20-30 a Milano erano dotati di questo locale immondizia in cui venivano ricoverati i rifiuti prodotti dallo stabile ed esposti solo in alcuni giorni della settimana per il ritiro vedete che anche qui appunto l'idea dei cassonetti è strettamente legato al ricovero all'interno del locale immondizia inizialmente dicevo negli anni 94-95 di carta e cartone e di vetro per agganciarsi poi invece c'è il discorso dell'organico e del ritiro di miciassacchi di plastica e metallica ma tornando un po' alla slide che racconta un po' di questa storia ecco che vedete come da un lato una raccolta differenziata organizzata a livello domiciliare innanzitutto per carta e vetro ha già fatto crescere in maniera quasi iniziale la raccolta differenziata avanzando di fatto da un 12% a un 26% di fatto gli anni successivi che vedete arrivano circa al 2012 sono degli anni in cui da un lato abbiamo migliorato questo tipo di raccolta con una serie di campagne di comunicazione perché come sapete pur avendo un servizio molto comodo per i milanesi per il fatto che in qualsiasi ora del giorno della notte scendo nel locale immondizia trovo un cassonetto per la carta e vetro e posso depositare questi rifiuti però la cultura della differenziazione è una cultura che è cresciuta nel tempo quindi ci sono stati molti investimenti in comunicazione e in quello che noi chiamiamo ingaggio della popolazione a tutti i livelli in tutte le forme anche su questo tema magari ci sarà spazio lo dico anche a Tiziana perché sono tanti progetti che ho visto anche di Amno Genova che ci accomunano perché la cultura della separazione del rifiuto è una cultura che si acquisisce nel tempo lavorando molto con gli strumenti di comunicazione cercando di far capire alla popolazione quindi mi riferisco innanzitutto ai cittadini ma poi anche alle cosiddette utenze non domestiche quindi dai negozi supermercati tutte le altre realtà come l'ufficio le aziende stesse far capire che questo sforzo è teso di fatto poi a un avvio a recupero di materia a riciclo e non banalmente a un interramento quindi tornando un po' allo sviluppo del grafico in quegli anni abbiamo lavorato molto sulle campagne di comunicazione abbiamo poi introdotto questa raccolta del multimateriale cioè del conferimento da parte di cittadini milanesi all'interno di un sacco trasparente giallo degli imballaggi in plastica e in metallo questo perché la tecnologia in quegli anni ha sviluppato le prime forme di quello che si chiama in gergo un sorting industriale automatizzato cioè degli impianti che con dei nastri con una serie di meccanismi selezionano da un lato le tipologie di metallo fondamentalmente la parte ferrosa dalla parte non ferrosa e poi le varie tipologie di di imballaggi e quindi di polimere di plastica che devono essere separati diversamente questi impianti sono cresciuti in quegli anni erano partiti addirittura da una separazione manuale fino ad arrivare agli attuali impianti che sono impianti con dispositivi ottici di lettura delle varie tipologie di imballaggio che permettono dei livelli di efficienza importanti però come vedete fino al 2011 2012 di fatto la crescita non è più stata così progressiva come è stata alla fine degli anni 90 che cosa mancava nell'introduzione per portare un'altra frazione importante a riciclo era quella di cominciare ad attivare le prime raccolte della frazione organica del fiuto urbano la cosiddetta forso o la frazione umida di fatto fondamentalmente per la città di Milano è rappresentata dagli scarti elementari in questo siamo molto diversi dalle città europee che anche con Tiziana abbiamo avuto modo di vedere perché soprattutto nel nord Europa la frazione organica in realtà ha meno la presenza di scarto alimentare che di scarto vegetale in realtà Milano è una città che ha pochi giardini privati ha poche villette o abitazioni non familiari dove ci sia una produzione di verde e quindi è molto prevalente invece il conferimento dello scarto alimentare allora che cosa è stato fatto negli anni prima del 2012 è stato fatto dapprima una serie di sperimentazioni nell'offerta di un servizio orientato alle attività commerciali mi riferisco quindi a bar ristoranti mense sia aziendale che scolastiche dove chiaramente le quantità sono notevoli e già da subito quindi stiamo parlando di fatto della fine del 97 98 abbiamo cominciato a progettare un servizio fatto a cassonetti con un ritiro addirittura giornaliero in questo caso proprio perché la produzione a livello di queste utenze collettive è una produzione importante e che non può prevedere anche per diciamo condizioni igienico-sanitarie uno stoccaggio su più giorni oltre a un problema chiaramente di spazi quindi il servizio è stato organizzato da subito con la consegna di cassonetti marroni da 120-240 litri meglio 120 perché comunque è più facile anche da gestire spesso addirittura il ristoratore si colloca quasi nel banco di preparazione del cibo questo tipo di cassonetto e poi viene utilizzato chiaramente per gli scarti non consumati dei cibi dei cibi preparati ecco diciamo che la raccolta la raccolta dell'umido commerciale è stata sviluppata poi nel tempo ma il vero e proprio diciamo balzo dal 2012 il vero e proprio salto è stato appunto con l'introduzione della raccolta del rifiuto organico per le utenze domestiche che è stata un'iniziativa già sperimentata negli anni precedenti con poco successo perché abbiamo avuto da un lato comunque dei problemi sulla qualità degli scarti conferiti perché l'utenza domestica può rischiare di introdurre dentro nel cassonetto marrone quindi nel contenitore dedicato alla raccolta dell'organico anche altre frazioni che chiaramente peggiorano la qualità dell'umido creando dei grossi problemi poi di conferimento all'impianto che tenete conto in quegli anni erano soprattutto impianti di compostaggio tradizionale con l'avvio invece delle prime sperimentazioni e poi dei primi impianti industriali di digestione anerobica quindi impianti basati su da un lato la produzione di biogas e dall'altro comunque la produzione di materiale che è il cosiddetto compost abbiamo potuto avviare una raccolta organica e sistematica per le famiglie milanesi questo progetto è un progetto che ci ha impegnato parecchio infatti vedete che la crescita dal 2012 arriva poi attorno al 2015 ci sono voluti di fatto ben tre anni perché abbiamo dovuto proporre alla città di Milano questo servizio gradualmente abbiamo diviso la città in quattro quadranti che poi corrispondono ai quattro dipartimenti operativi con cui è strutturata l'organizzazione operativa di AMSA e abbiamo fatto una consegna porta a porta ai vari civici di uno più che assolente a seconda delle famiglie residenti all'interno dello stabile questa operazione è stata un'operazione molto interessante anche dal punto di vista del coinvolgimento dei nostri addetti e della campagna di comunicazione perché adesso cerco di essere sintetico perché è molto lungo da racconto e vorrei lasciare spazio alla collega però sintetizzando abbiamo organizzato una consegna porta a porta in cui erano addirittura i nostri autisti i nostri operatori a consegnare poi il materiale adesso qui magari velocemente passo a questa slide scusate per ritrovare ecco qua quindi noi abbiamo consegnato di fatto il cassonetto da 120 litri a tutte le portinerie a tutti i civici e però a tutte le unità familiari abbiamo consegnato vedete quel cestello da 10 litri con all'interno anche dei sacchi compostabili perché chiaramente questo è l'altro grande problema della qualità dell'organico di non utilizzare sacchetti in plastica perché poi diventano problematiche problematici e questa questa consegna di materiale è avvenuta con il nostro personale operativo che quindi ha consegnato poi anche il materiale di comunicazione le locandine oltre chiaramente a tutte le campagne a tutti gli strumenti di comunicazione che si usano poi in questo tipo di iniziative ecco tornando al grafico quindi siamo arrivati di fatto al 2016 con un balzo da 34 sono il 35% al 52% in cui la quota rilevante di questa percentuale è proprio rappresentata dalla grande quantità di rifiuti intercettati dalla raccolta a livello domestico della frazione organica quantità che è stata comunque e questo c'è stato molto di conforto assicurata anche da una buona qualità delle frazioni non conforme quindi soltanto all'inizio il 2-3% era materiale non organico quindi assolutamente un risultato di successo che abbiamo cercato di mantenere anche se chiaramente poi nel tempo peggiore quindi bisogna ritornare su campagne di comunicazione comunque diciamo che l'obiettivo era quello di stare sotto il 5% sapendo che la soglia di accettazione degli impianti di gestione anaerobica è il 10% cosa succede nel 2017 e vado a chiudere nuovo piano strategico perché comunque come diceva Federico l'obiettivo del 65% c'era più volte fatto presente a tutti i livelli pur non essendoci delle vere e proprie sanzioni anche a livello comunitario però è una sfida che chiaramente il comune di Milano noi volevamo raccogliere quindi lì si è iniziato a come dico io raschiare un po' il barile quindi ritornare con delle campagne di comunicazione su le varie frazioni riciclabili un elemento importante è stata un'ordinanza questo per far capire quali sono poi le leve sono tante quelle per migliorare la qualità la quantità della raccolta differenziata c'è stata un'ordinanza nel 2017 che ha proibito l'utilizzo per l'esposizione dell'indifferenziata che fino a quell'epoca avveniva con il cosiddetto sacco nero l'obbligo invece dell'utilizzo del sacco trasparente vedo che Tiziana annuisce ma perché guardate è pazzesca questa cosa cioè questo vuol dire che tu portinaio dello stabile che gestisci stai mettendo fuori magari delle quantità di frazione riciclabile che è immediatamente intercettabile sia dai vicini dai condoni ma che poi dagli ispettori e dalla e dalla polizia municipale quindi l'ordinanza è stata è stata appunto varata si è dato un certo numero di mesi di franchigia cioè si è chiuso un po' gli occhi ma poi hanno iniziato a affiocare le multe questa cosa unita a un piano di comunicazione e all'avvio di un'altra raccolta importante che è quella della frazione organica prodotta dalle attenze che noi chiamiamo mercatali per capirci a Milano abbiamo 92 mercati all'aperto che stazionano uno o due giorni alla settimana su diverse via della città e che fondamentalmente sono mercati di prodotti ortofrutticole quindi con una alta produzione di scatto organico e anche di imballaggi soprattutto cassette in legno imballaggi in plastica in cartone ecco con questo piano strategico ad esempio in quel caso e questo è un altro elemento che volevo condividere poi con voi come abbiamo cercato di quello che in gergo noi diciamo customizzare cioè organizzare una raccolta su misura personalizzata per queste utenze che sono delle utenze particolari perché sono operatori che arrivano al mattino molto presto con un furgone scaricano i loro banchi le loro temi mettono le loro merci e poi non potevamo dotarli ad esempio di cassonetti perché comunque non c'è spazio allora ci siamo inventati un trespolo reggisacco e abbiamo organizzato una raccolta a sacchi per loro mentre invece per quanto riguarda gli imballaggi gli abbiamo detto di semplicemente mettere insieme gli imballaggi riciclabili quindi ripeto cassette di legno imballaggi in plastica in cartone questo perché un impianto innovativo che era stato realizzato da A2 Ambiente quindi dalla nostra consociata che gestisce gli impianti a valle dei nostri servizi di raccolta ne permetteva poi la selezione a valle quindi praticamente abbiamo una raccolta multimateriale che finisce poi in questa piattaforma dove con diversi sistemi vengono separati i diversi flussi quindi la cassetta di legno viene poi triturata e va agli impianti di riciclo del legno e lo stesso viene per il cartone piuttosto che per la cassetta di polistrono io sentirei adesso la dottoressa Berlino perché tanto diciamo si può fare dalla crisi in qualche modo poi sono venute le soluzioni e quindi siamo a quel 62% vediamo cosa è successo a Genova ho ascoltato con grande interesse perché ovviamente il confronto sono realtà simili che hanno molte caratteristiche in comune e prima fra tutte la necessità di gestire un territorio complesso un grande volume di rifiuti che ovviamente comporta delle complessità di tipo logistico di tipo di trasferenza di rifiuti che ovviamente i piccoli barra medi comuni non hanno e soprattutto lavorare con volumi tali di materiale che è giustificato barra necessario avere un'impiantistica adeguata al fine di non avere un concetto di economia circolare ma nel senso che fa circolare dei camion e non di un'economia circolare che porta alla produzione di materie prime e seconde perché poi il rischio di arrivare lì perché partivo dalla slide del collega perché veramente il tempo e gli anni che hanno separato la crisi di Milano che sono stati fortunati ad avere prima di noi ma tanti anni prima non 95 se non sbaglio quindi 15 anni prima e la nostra crisi che è arrivata nel 2014 gli ha dato un vantaggio cioè un vantaggio di dover lavorare su un problema e creare un'opportunità ovviamente il fatto di avere parlo di Genova a disposizione un sito di discarica comodo un sito di discarica ampio un sito di discarica che potesse garantire uno smaltimento dei rifiuti raccolti con un costo relativamente basso ma dico soprattutto comodo perché era l'unico impianto di fatto vero per la gestione dei rifiuti in città e quindi quello ha secondo me poi io sono in Amium lavoro in Amium dal 2017 e comunque nel 2014 ho visto conosco la storia per come è stata documentata e comunque fino a quel momento l'azienda non ha dovuto necessariamente spingere l'acceleratore sulla raccolta differenziata e soprattutto sulla realizzazione di impianti per il trattamento dei materiali da raccolta differenziata quindi questo ha secondo me rallentato un po' il percorso cosa è successo nel 2014 nel 2014 è stata veramente una grande crisi ed è un po' la crisi che vivono tutte le città dove manca l'impiantistica di trattamento del rifiuto in particolare indifferenziato vediamo tante situazioni nel centro sud Italia di rifiuti abbandonati per strada che non vengono raccolti a noi è capitato nel 2014 in particolare io l'ho vissuto nel 2018 anche prima di riaprire anche la discarica quando ahimè c'era stata una problematica con gli impianti che potessero ricevere il rifiuto a quel punto non si riesce proprio a fare la raccolta non è che non abbiamo i lavoratori che non sono anzi sono veramente sempre molto attivi molto operativi e vedere non poter raccogliere i rifiuti perché non si ha lo sbocco a valle è veramente un grandissimo problema quindi come è stata risolta quella crisi a Genova allora parliamo del 2014 immediatamente tanto si è trovata cercata una soluzione sul dove portare quei rifiuti che ahimè non erano differenziati nella maggior parte del volume a smaltimento quindi impianti barra discariche piuttosto che termovalorizzatori nello stesso tempo avviare un percorso di incremento della raccolta differenziata nella diciamo pianificazione e progettazione di questo percorso parlo del 2014 parlo del 2016 fino ad arrivare al 2017 perché ovviamente è un percorso complesso è necessario fare un ragionamento e pensare all'azienda Amion nel nostro caso che doveva fare certi tipi di attività e anche investimenti un'azienda in house un'azienda che si trovava ad avere una problematica anche di costi di smaltimento ovviamente che si generavano sì assolutamente sì scusate in house è un'azienda totalmente pubblica quindi Amion è un'azienda il cui capitale è di proprietà pubblica in particolare in questo momento del comune di Genova e della città metropolitana di Genova questo dopo il 2020 e il concetto di in house si ha quando la società è proprio sotto il controllo pubblico e sulla quale l'ente pubblico diciamo socio esercita un cosiddetto si chiama controllo analogo ovvero lo stesso controllo che ha sui propri uffici quindi noi di fatto siamo un soggetto pubblico a tutti gli effetti nella nostra operatività quotidiana nel senso che siamo soggetti a codici appalti quindi dobbiamo fare gare pubbliche siamo soggetti ai concorsi pubblici per l'assunzione delle persone eccetera eccetera e ovviamente anche nella capacità di investimento diciamo così eravamo siamo stati per un po' di tempo anche limitati rispetto punto primo a quello che poteva essere la durata del contratto di servizio che era proprio la sostanza del nostro lavoro quindi il contratto per il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel comune di Genova che scadeva nel 2020 dall'altro un aumento di costi che ovviamente non vuole entrare in tecnicismi però i costi di smaltimento o extra costi che sono stati chiamati noi poi a Genova c'è stato molto dibattito sugli extra costi di smaltimento che per quanto mi riguarda non erano extra costi erano i costi di smaltimento smaltire rifiuti costa trasportare rifiuti costa ovviamente nella situazione di Genova che con la discarica di Scarpino aveva un basso costo di sbaltimento un basso costo di trasporto quindi questo è un po' il contesto per cui noi abbiamo lascio da parte tutte le varie situazioni del momento ma abbiamo iniziato diciamo così la nostra via verso l'incremento della raccolta differenziata diciamo così dal 2000 2017 2018 non perché era sottoscritta su un terreno di direttore generale ma perché erano cambiate determinate condizioni c'è stata l'opportunità di vedersi riconosciuti da parte del comune i costi che erano stati sostenuti dalla società e quindi questo ci ha permesso anche di poter iniziare a fare qualche investimento ma la svolta noi l'abbiamo avuta nel 2021 quindi sono passati un po' di anni e adesso stiamo lavorando su un nuovo piano industriale con l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata al 2024 dicevo la svolta è arrivata nel 2021 quando a Mio Genova è diventata il gestore unico tra affidamento in house da parte quindi affidamento diretto da parte della città metropolitana di Genova della gestione per 15 anni del contratto di servizio relativa alla gestione appunto del ciclo integrato dei rifiuti per la città di Genova e per tutto il cosiddetto genovesato che sono un ambito diciamo di 30 comuni in provincia di Genova e con una garanzia di 15 anni assolutamente questo cosa ha dato una continuità aziendale di lungo termine ci ha dato la possibilità di avere diciamo la giusta copertura anche economica e finanziaria per poter fare investimenti e abbiamo iniziato il nostro percorso per l'incremento della raccolta differenziale possiamo vedere che abbiamo già avuto un po' la storia pronto tra gli anni 2019, 20, 21 e 22 dove si può vedere che già tra il 20 e il 21 iniziamo un po' c'è un po' di discontinuità quindi abbiamo avuto anche il covid che non so bene allora il covid è stata una parentesi per quando ci riguarda assolutamente sembra che bisogna tenere particolare una parentesi complessa perché ovviamente dal punto di vista della gestione aziendale il collega lo saprà benissimo noi abbiamo comunque dovuto garantire un servizio pubblico ovviamente a numeri ridotti perché la produzione dei rifiuti si è abbassata molto in tutte le città perché essendo chiusi tutti gli esercizi commerciali banalmente si è ridotto non essendoci turismo altre cose però le nostre squadre i lavoratori dovevano essere diciamo operativi operativi sempre e comunque in più su Genova e comunque sulla Liguria cosa che non credo che sia successa in Lombardia non avendo disponibilità di termovalorizzatore comunque c'è stata una normativa regionale che ha previsto la raccolta domiciliare dei rifiuti potenzialmente diciamo così contaminati a casa di tutti i soggetti affetti da covid che ovviamente noi non facevamo direttamente perché diciamo non perdevano un po' la qualificazione di rifiuto urbano però abbiamo noi gestito tutta la logistica e l'affidamento di tutte e terze specializzate che sono andate a fare questa raccolta presso le famiglie comunque il volume dei rifiuti si è ridotto si è ridotta anche un po' la raccolta differenziata perché c'era questa logica del sacco unico per poter poi mandare a smaltimento tutto ma diciamo che non ci ha fermato nei nostri progetti nel senso che per noi il 2020 è stato l'anno in cui abbiamo lavorato sul nuovo contratto quindi con l'affidamento nuovo è stato sottoscritto a luglio del 2020 con partenza prima gennaio 2021 quindi primo gennaio 2021 pronti via nuovo contratto di servizio nuovo contratto di servizio che ha diciamo così previsto appunto questo sviluppo della raccolta differenziata qui ho un'immagine diciamo di quello che sta succedendo che è successo nel 2022 e come sta andando scusate che non vedo nel diciamo nel 2023 con anche un po' quella che è la nostra il nostro obiettivo hanno i numeri ci stanno diciamo così confortando perché effettivamente la raccolta differenziata sta salendo il dato che hai presentato tu all'inizio 39,9 era il dato del 2021 nel 2000 perché Ispro ovviamente ha il dato 2021 nel 2022 abbiamo diciamo così superato il il 43% con il rifiuto indifferenziato che è calato di 20.000 tonnellate e diciamo il percorso è ormai tracciato per arrivare al 2024 con 65% un obiettivo spidante che scusate tolgo un attimo la condivisione perché non mi ricordo cosa dopo volevo far vedere anche altre cose volevo far vedere questo perché tutto il nostro progetto industriale piano industriale per l'incremento della raccolta differenziata che si differenzia dal modello di raccolta che ha Milano con questo modello diciamo così di porta a porta condominiale che è in qualche modo nato negli anni passati che è possibile anche grazie ad una conformazione urbanistica differente da quella di Genova con diciamo le palazzine con il portierato con la possibilità di avere zone di ricovero dei cassonetti appunto con il portinaio cioè c'è un po' una tradizione una logica un pochettino diversa che ha permesso questo la scelta di modello di raccolta che è quella prevista nel piano industriale che sta che ha previsto un investimento di oltre 90 milioni di euro su attrezzature e sistemi di raccolta è stata quella delle eco-isole che diventeranno ad accesso controllato queste sono un po' le immagini ma banalmente chi è appunto chi è di Genova conosce ormai è imparato a conoscere queste eco-isole non sono una novità altre grandi città stanno implementando questo tipo di sistema di raccolta Torino aveva iniziato col porta-porta e ha diciamo virato su questo modello di raccolta in questo momento noi stiamo installando i sistemi senza accesso controllato quindi l'accesso è libero c'è solo la necessità di schiacciare un bottone che sta creando una serie di problemi ma non è assolutamente un problema nel senso che sblocca il caffonetto che è già predisposto per l'accesso controllato e quindi la possibilità poi in futuro di applicare la telefazione puntuale a che cosa sta servendo in una città come Genova questo tipo di progetto di installazione di cassonetti intanto serve a fare ordine ordine e a installare sul territorio un numero di volume di cassonetti che sia finalizzata la raggiungimento della raccolta differenziata mi spiego meglio sul territorio della città di Genova c'è una preponderanza di volumi disponibili per i cittadini di cassonetti dell'indifferenziato e quindi questo non incentiva e non aiuta nonostante noi facciamo comunicazione si faccia attività di sensibilizzazione il cittadino ad adeguarsi alla raccolta differenziata in più aggiungo che è anche legato al percorso di cui parlava prima il collega la raccolta dell'umido è veramente di recente diciamo così avvio in tutta la città adesso questi sono i cassonetti dell'organico che sono legati alle eco-isole ma anche noi abbiamo iniziato un'attività di distribuzione dei cassonetti diciamo personalizzati o comunque dedicati alle utenze non domestiche bar ristoranti per facilitare la raccolta appunto dell'umido in questi tipi di utenze che ovviamente nel momento in cui si spinge sulla raccolta dell'umido automaticamente è la leva per poter diciamo così svoltare e cambiare i numeri rispetto a quello che è a quella che è la raccolta differenziata quindi questo è un po' scusatemi non ho delle slide belle come quelle del collega o cose un pochettino più raccolte da varie presentazioni con lei volevo parlare ma è visto che abbiamo trattato dell'argomento dell'organico da genovese mi rendo conto che su questo argomento non ci siamo ancora insomma quindi il problema della comunicazione dell'accettazione di poter anche con dire maneggiare uno scarto problematico volevo appunto chiedere quindi continuando su un geno visto che a Milano abbiamo avuto un'ampia illustrazione della situazione qualche dettaglio in più cioè praticamente rispetto all'organico abbiamo qualche intanto se avete già qualche dato sulla qualità dei materiali che si stanno raccogliendo in questi ultimi mesi so che la raccolta con questi tipi di cassonetti diciamo dedicati sta riguardando soltanto alcuni quartieri poi andrà a estendersi immagino ecco se avete già qualche idea qualche informazione sulla qualità dei materiali conferiti perché questo può essere il problema no? l'altra era una domanda che vorrei cominciare a rivolgere a lei poi eventualmente la giriamo al collega di Milano a Visbara era se avete qualche informazione sul grado di soddisfazione del servizio da parte dei cittadini insomma i genovesi mogugniano stanno mogugnando per questi cambiamenti delle abitudini che ovviamente stiamo introducendo giustamente o sono tutti belli contenuti qualche riscontro a riguardo? allora intanto partiamo dall'umido sicuramente c'è stato c'è stato un po' di ritardo stiamo cercando di recuperare giusto per dare per dare qualche numero noi siamo passati dal 2020 diciamo il 2020 è stato un anno più o meno un po' meno del 2019 comunque intorno alle 13.500 tonnellate di umido raccolte e nel 2022 superiamo le 19.000 per il 2023 abbiamo un obiettivo molto molto sfidante di arrivare alle 40.000 diciamo che magari non arriviamo alle 40.000 perché è veramente molto sfidante ma sicuramente di superare le 25.000 quindi è quasi esponenziale l'incremento dell'umido le azioni che stiamo facendo a parte nell'installazione delle eco-isole appunto col cassonetto dedicato per l'umido la raccolta sta andando bene anche dal punto di vista qualitativo nel senso che riusciamo a rimanere ampiamente sotto alle percentuali previste dagli impianti questo è un riscontro che ci danno anche direttamente gli impianti che fanno poi le analisi merceologiche sul nostro materiale i impianti che trattano allora noi abbiamo due impianti per la scelta degli impianti di trattamento dell'umido quindi della cosiddetta forfum diceva prima la collega frazione organica da raccolta differenziata che è prevalentemente lo scarto della preparazione dei cibi quindi alimentare abbiamo fatto la gara d'appalto perché siamo siamo un'azienda pubblica noi non abbiamo un impianto un impianto nostro e siccome il volume è tanto e anche i luoghi punti di presa sono sono diversi anche perché ovviamente io devo ragionare su 30 comuni non soltanto su Genova un impianto sono impianti di gestione anaerobica che producono biogas piuttosto che anche compost uno è in provincia di Bergamo a Montello che è uno dei più grandi impianti del nord Italia che è anche l'impianto che è di riferimento per la città di Milano un impianto molto bello molto virtuoso dal punto di vista delle performance l'altro è un impianto locale che abbiamo qui in Liguria a Ferrania è un biodigestore di IREN di abbastanza recente costruzione che aveva prima una dimensione ovviamente molto più piccola di Montello autorizzata di 30.000 tonnellate l'anno che ha fatto poi diciamo così un raddoppio e ha una capacità di trattamento di 60.000 tonnellate l'anno ovviamente questo impianto serve sta servendo tutta la provincia di Savona piuttosto che tutta una parte di Liguria e in parte sta prendendo anche il nostro rifiuto abbiamo fatto una gara in due lotti quindi una parte diciamo 50-50 in un impianto e una parte nell'altro nessuno dei due impianti negli ultimi periodi anzi ci hanno diciamo così manifestato un positivo riscontro rispetto alla qualità del materiale quindi i genovesi si stanno comportando bene quanto meno lato umido un po' meno bene rispetto ad altri rifiuti e questo è un tema che potremmo aprire in particolare la plastica che invece è molto tra virgolette inquinata da materiali non conformi il materiale non conforme ci tengo a dirne anche il sacchetto biodegradabile con cui butto la plastica comunque non ha fatto studi di customer satisfaction allora rispetto alla customer satisfaction in realtà noi abbiamo fatto un'indagine ma non soltanto sull'umido l'abbiamo fatta in generale sui servizi di AMI sul nuovo sistema di raccolta queste eco-isole però non ho ancora i risultati ufficiali me ne presentano la settimana prossima mi hanno accennato che sono abbastanza positivi poi ovvio che avere a che fare con una nuova modalità di raccolta cambiare le abitudini delle persone è veramente è molto complesso ci vuole molta comunicazione è molto coinvolgimento poi lo vedremo lo vediamo anche col collega ci siamo confrontati questa mattina la modalità è la stessa andiamo nelle scuole facciamo eventi interventi come questo dobbiamo far vedere anche cerchiamo di farlo noi tramite radio televisioni locali tutto quello che c'è possibile con varie campagne di comunicazione e anche per filiere di rifiuto stiamo partendo adesso cielo alle spalle con una grande campagna di comunicazione sul dentro stanno facendo una grossa campagna sul dentro sulla plastica e quello che vorremmo far vedere sempre di più e stiamo proprio preparando anche dei filmati ad hoc è il viaggio dei rifiuti cioè far vedere che i rifiuti percorrono un viaggio verso il riciclo verso il recupero di materia non vanno necessariamente se in Milano abbiamo qualche elemento in più rispetto appunto a questo quali sono se loro hanno già diciamo degli studi fatti sul quanto appunto i milanesi apprezzino o meno il servizio offerto e quanto questo può essere servito eventualmente per migliorare le prestazioni e l'offerto avete qualche informazione? Assolutamente nel senso che lo strumento è quello di una indagine una survey fatta su i principali servizi erogati da ANSA diversamente dalla collega a questo punto è il comune di Milano che raccoglie diciamo le valutazioni di un panel di circa 4.000 cittadini che vengono intervistati di solito l'indagine viene condotta proprio in questo periodo infatti quella del 2022 quindi l'indagine sui servizi erogati da ANSA nel 2022 è in corso in questi giorni le domande riguardano però tutto si parte dalla raccolta rifiuti compresa la raccolta ingombranti fino a spazio e poi all'attività di pulizia all'aragio delle strade lo svoltamento di cestini le pulizie varie delle aree di mercato e quant'altro fino poi anche a una valutazione sul canale di contatto e di comunicazione allora diciamo che in queste indagini mi riferisco adesso storicamente agli ultimi tre anni sicuramente noi abbiamo un feedback molto positivo sul servizio che vi ho raccontato prima ma è ovvio cioè si gioca facile avere la possibilità di conferire i propri rifiuti in qualsiasi ora del giorno della notte all'interno della tua abitazione cioè del tuo stadio anche se stai all'ultimo piano scendi e trovi un locale dedicato che poi normalmente è tenuto bene gestito dalla portineria dall'impresa di polizia e soprattutto i rifiuti vengono esposti in una maniera estremamente limitata sulla strada sul marciapiede davanti al condominio faccio una piccola parentesi su questo perché è per motivare questa votazione che attorno all'otto la customer a Milano è fatta con una valutazione da 1 a 10 quindi la valutazione scolastica la raccolta di rifiuti a 8.09 il dato dell'anno scorso vediamo di confermarlo quest'anno se parlo addirittura della raccolta ingombranti a domicilio che è quella raccolta che a Milano si fa per i rifiuti ingombranti prenotando o telefonicamente o sul sito il prelievo fuori dallo stabile dei propri mobili piuttosto dei grandi RAE in quel caso addirittura la valutazione è 8.7 cioè capite che è ovvio perché tu hai i rifiuti conferiti all'esterno dello stabile per poche ore perché per quanto riguarda il semicentro e i grandi assi le grandi vie che portano al centro di Milano l'esposizione dei rifiuti deve essere fatta in orario molto presto al mattino perché AMSA stessa entro le 8 del mattino deve aver ritirato tutto e uscita da questa cerchia che è appunto la cerchia del semicentro quindi di fatto si spogliono i rifiuti tra le 5 alle 5.40 del mattino e entro le 8 AMSA è passata poi il resto della città ha un'esposizione più tardi ma comunque entro le 8 del mattino e alle 11 11.30 noi abbiamo portato via tutto quindi capite che il posizionamento dei sacchi dei cassonetti è molto limitato nelle prime ore del mattino questa cosa viene valutata molto molto bene è chiaro che gli altri servizi soprattutto magari quelli di pulizia delle strade dei marciapiedi hanno delle valutazioni più basse proprio perché lì ci sono delle dinamiche molto legate anche al cattivo comportamento non solo dei residenti ma chiaramente sempre di più a Milano di quelle che noi chiamiamo i commuters cioè gente di studio e lavoro a Milano ma di sede da altre parti e ultimamente diciamo che da Expo in poi dal 2015 l'arrivo dei turisti cioè ormai noi abbiamo anche questo fenomeno a cui Genova invece proprio come vocazione è forse più abituata però per noi vuol dire avere un gradimento poi di quella che è la prestazione finale sul decoro della pulizia della città che è sempre più critica tornando invece al tema della qualità dei materiali volevo condividere con voi questa cosa chiaramente questi modelli che crescono nel tempo e mi fa piacere di vedere quello che Tiziana Mernino ha condiviso rispetto appunto alla crescita della raccolta di finanziate non ci può mai far stare tranquilli e non ci può mai far sedere per due motivi primo perché i comportamenti si modificano nel tempo parlavo prima di questa idea del laboratorio circolare forse anche per estrazione di studi è chiaro che ho un approccio sempre molto marketing però noi abbiamo visto e la mia area del marketing che lavora poi con quella della comunicazione anche di A2A quindi della nostra corporate si occupa anche di energia di illuminazione piuttosto che del ciclo idrico notiamo che i comportamenti dei cittadini o comunque dei city user degli utilizzatori dei nostri servizi si modificano molto velocemente condividiamo con Tiziano un fenomeno che da noi è esploso soprattutto nel 2015 e ha avuto un apice durante il il covid che è quello dell'e-commerce che ha modificato di fatto gli stili di consumo di acquisto e quindi di consumo dei residenti ma anche delle aziende stesse e quindi velocemente le nostre aziende si devono adeguare a queste cose noi addirittura avevamo una raccolta effettuata proprio per rendere efficiente la logistica avevamo un compattatore che raccoglieva simultaneamente carta dentro chiaramente non mischiava il materiale l'abbiamo scritto anche a carattere cubitale sui mezzi perché molti dicevano già mi fate separare una roba in casa e poi la mettete tu assieme due comparti separati in modo tale che staziono davanti al tuo stabile ma contemporaneamente carico cassonetto del metro e cassonetto della carta durante il 2015 con la crescita dell'e-commerce la produzione di imballaggio in cartone di dimensioni piccole perché è quello di chi fa delivery di questi prodotti ha aumentato la produzione dei nostri cassonetti per cui a questo punto abbiamo preferito utilizzare un compattatore dedicato ho citato quello dell'e-commerce ma ce ne sono tante altre adesso stiamo assistendo addirittura c'è stata anche una nascita di un nuovo consorzio dedicato ai nuovi imballaggi e prodotti compostabili perché a questo punto la grande distribuzione sta mettendo sui suoi scappali dei prodotti imballati in questi nuovi contenitori ma voi capite che le nostre aziende si devono velocemente adeguare per fortuna abbiamo anche il sistema conai che ci aiuta in questo perché i produttori e distributori che hanno l'obbligo comunque di quello che si dice in gergo cercare di recuperare il prodotto a fine vita l'imballaggio a fine vita stanzano dei soldi che poi vengono utilizzati per migliorare i sistemi di raccolta i sistemi di selezione di riciclo e fare attività di comunicazione infatti anche la campagna alle spalle di Tiziana è un esempio della collaborazione che noi abbiamo con i consorzi e che sfruttiamo da questo punto di vista perché avendo dietro produttori e distributori sono loro tra virgolette adesso in maniera simpatica i colpevoli anche di modificare queste abitudini di acquisto e di consumo dove le nostre aziende di raccolta e di impianti si devono velocemente adeguare concludo Federico dicendo che agli stili di vita di consumo sono anche stili di vita a Milano ormai diciamo che da sei mesi a sei mesi aumentano le zone di aggregazione spontanea dei cittadini che soprattutto dopo il covid hanno cominciato una città che era una volta la città della media invece a voler stare fuori all'aperto quindi locali che hanno amplificato i deor occupazione di interi marciapiedi dove i nostri mezzi spesso fanno fatica a passare per la raccolta di frutti aumento anche qua di imballaggi di un certo tipo di vieti di consumo ordinanze per vietare l'utilizzo delle bottiglie di vetro perché i fenomeni di Movida possono poi essere legati a problemi di sicurezza e dall'altro aumento di bicchieri magari non spesso in materiale compostabile ma in plastica tradizionale introdotto mi pare interessante questa rapida evoluzione anche dei modi di consumare l'importanza che le vostre aziende si arrechino con te tanto rapidi io adesso volevo con dottoressa Merlino introdurre un altro argomento che era quello delle chiamiamole isole ecologiche o delle case del riuso è un altro argomento mi pare dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima qualche problema c'è rispetto mentre la raccolta a Milano a otto di punteggio ho avuto l'impressione che rispetto al fatto di avere sotto casa una cosetta isola ecologica non sia una cosa gradita volevo che ne parlasse un attimo la dottoressa Merlino perché appunto noi abbiamo questo problema proprio questione di questi giorni si sta proponendo un'isola ecologica al nuovo quartiere e ci sono i comitati che hanno anche ragione volevo che parlassi un attimo di questo anche delle case del riuso che mi sembra un altro argomento interessante su cui Genova qualcosa di importante aveva anche già fatto poi sono stati un po' di problemi immagino su questo magari se si può raccontare come state le scelte che state facendo su questo tema com'è la situazione a Genovese magari sentiamo un attimo poi dopo subito dopo Milano allora assolutamente intanto ti ringrazio anche della della domanda e dell'argomento che è fondamentale affrontare e sul quale è fondamentale fare tanta comunicazione tanta informazione soprattutto perché le isole ecologiche centri di raccolta diversi modi per chiamarla a me piace anche chiamarli abbiamo un concetto di polo per l'economia circolare poi vi spiego perché e mi piace identificarli così sono esatto non sono una servitù ma sono un servizio per i cittadini è un modo per poter garantire ai cittadini la possibilità di fare la raccolta differenziata o comunque di disfarsi in maniera corretta di determinati materiali che non sono più per cui si ritiene non servano più non essere più utilizzabili e quindi diventano diciamo così nella esigenza del cittadino un rifiuto ad un certo punto dove devono buttarlo via da qualche parte e che non possono essere conferiti nei cassonetti perché non c'è il cassonetto per il legno per il il giocattolo di plastica dura perché è sbagliato metterlo nel cassonetto della plastica perché è sbagliato mettere nel cassonetto dell'indifferenziato che poi dovrebbe essere secco residuo un vecchio mobiletto o un phone che non uso più perché mi si è rotto assolutamente o un cellulare o un cellulare a maggior ragione questi sono tutti materiali post consumo rifiuti chiamiamoli come vogliamo che hanno dei flussi e dei dei percorsi dei processi di ehm riciclo anche virtuosi o potrei anche dire di riuso se parliamo dei centri del riuso che non vanno dimenticati quindi punto primo le isole ecologiche chiamiamole come volete centri di raccolta sono un servizio polo dell'economia circolare poi vi faccio vedere anche le slide di due progetti molto interessanti che sono stati finanziati da PNF chiedo scusa pensavo che poi se magari facendo anche da parte vostra un po' di selezione perché visto che ne avete anche portati molti se ce le mandate poi possiamo alla nostra volta come di fare in modo che chi ci ha seguito possa eventualmente volentieri e dicevo appunto sui centri di raccolta e una grande parte della raccolta differenziata della città la facciamo tramite quello che raccogliamo centri di raccolta apro e chiudo una parentesi collegandomi a quello che diceva prima il collega anche a Genova abbiamo il servizio di raccolta ingombranti a domicilio gratuito su tutta la città a piano strada gratuito e con un piccolissimo piccolissimo ripeto contributo in denaro addirittura veniamo a prendere al piano perché ovviamente si paga il servizio non si paga tanto lo smaltimento ed è su tutta la città sul sito internet di Amio abbiamo l'Amio app dappertutto si può trovare il numero di telefono si prende l'appuntamento e in un arco di tempo che non supera mai la settimana 10 giorni andiamo a prendere a domicilio l'ingombrante o il bene di cui si deve disfare addirittura lo facciamo anche con le ramaglie quindi con diciamo gli scarti per chi ha il giardino che ha necessità poi di diciamo disfarsi delle ramaglie noi non andiamo a prendere domicilio quindi abbiamo tanti servizi e forse probabilmente non siamo così bravi a comunicarli e dobbiamo migliorare su questo e ce l'abbiamo però c'è anche abbiamo gli ecovan il camioncino che staziona a seconda a seconda dei quartieri una volta alla settimana addirittura su un centro storico ce l'abbiamo tutti i giorni perché in punti diversi del centro storico si trova il camioncino che staziona quelle dalle due alle quattro ore dove i cittadini possono portare i piccoli ingombranti piccoli rae o altre cose è veramente un servizio capito tornando però ai centri di raccolta delle isole ecologiche e anche ai centri del riuso il lavoro che purtroppo a Genova abbiamo soltanto di fatto tre isole ecologiche a servizio dei cittadini poi ne abbiamo una più grande a servizio di chi ha volumi più grandi o di ditte ma diciamo che parliamo delle tre una purtroppo l'abbiamo persa con il crollo del ponte Morandi oltre ad una stazione di trasferenza e quindi con enorme danno abbiamo queste due isole ecologiche e l'obiettivo è quello di realizzare il più possibile ma per dare il più possibile servizi ai cittadini vi faccio vedere il progetto che abbiamo presentato nell'ambito dei finanziamenti PNRR noi ci siamo aggiudicati aspettate che lo c'è lo vedete inizio da Volpara ci siamo aggiudicati qua da schermo intero lo vediamo lo vediamo due tra i vari progetti perché abbiamo avuto diciamo il finanziamento approvati nove progetti nell'ambito del PNRR tra l'altro due progetti che abbiamo chiamato come polo per l'economia circolare e quindi realizzazione di siti di spazi aree dove verrà realizzato sia il centro di raccolta che il centro del riuso l'obiettivo qual è? Dare la possibilità al cittadino in prima battuta di allungare la vita del bene quindi di non trasformare quello di cui si vuole dispare in un rifiuto perché ahimè tutto quello che entra in casa nostra diventa rifiuto e non per tornare indietro è più difficile quindi evitare addirittura di arrivare a un impianto di riciclo che è virtuoso fa parte dell'economia circolare ma in qualche modo è costoso anche a livello ambientale quindi fermarci e dare la possibilità del centro del riuso il centro del riuso è un luogo dove non entrano rifiuti ma entrano beni che qualcun altro può venire a prendere e portarseli a casa è un luogo dove idealmente noi vorremmo creare e lo stiamo già facendo anche in via Bologna dove c'è un ex mercato che a fine settembre dove a fine settembre diciamo verrà realizzato il centro solo centro del riuso anzi siete tutti invitati fin da adesso a quella che sarà poi spero entro fine settembre l'inaugurazione ma un luogo di aggregazione un luogo con possibilità di spazi per fare educazione ambientale dove avere sale di lettura un repair caffè come li chiamiamo noi cioè aree dove qualcuno insegna magari i ragazzi a riparare eccetera eccetera non mi vuole divagare questo è un progetto abbiamo due progetti uno che riguarda l'area che chi è genovese conosce benissimo della Volpara che ahimè è un po' un'area che è stata per noi è il sito più grande che abbiamo un sito che dove vengono realizzate un mix di attività di Amium è un sito che vede la trasparenza dei rifiuti è un sito dove abbiamo l'officile meccaniche è un sito dove abbiamo i magazzini è un sito dove abbiamo una palazzina uffici dove c'è una serie di impiegati attività anche amministrativa un sito dove c'è una rimessa e un sito dove c'è anche un centro di raccolta e quindi si mischia un po' quello che è l'attività del gestore a quello che è un servizio per i cittadini questo sito è nel progetto PNRR oggetto di trasformazione per realizzare un polo per l'economia circolare dove in realtà è prevista la demolizione adesso qua forse non lo vedete bene di questo bruttissimo immobile ormai decadente dove era che era il vecchio inceneritore di Genova e quindi avremo la possibilità di avere finanziamenti anche in parte che ci permetteranno di demolire questo mostro diciamo così e quindi ridare spazio alla città per un'attività centro di raccolta e centro del rito purtroppo in queste slide non ci sono le immagini di rendering però quindi questo è uno volpar l'altro e ho visto anche che c'è una domanda da parte di una di una persona che sta partecipando è il sito Polo per Economia Circolare altro progetto primo progetto finanziato 2 milioni di euro questo ha anche 2 milioni di euro che copre in parte il totale finanziamento finanziamento a fondo perduto questo è veramente una sfida perché si tratta di realizzare in un'area che in questo momento è di grande degrado quali zona della città ci troviamo via Bartolomeo Bianco quindi Lagaccio nella zona del Lagaccio sono in fermento da quelle zone è una zona è un'area dove in questo momento c'è una grande area anche si sta sviluppando sportiva molto bella c'è un campo da calcio c'è un campo da ok su Prato tra l'altro uno dei più grandi del nord Italia si stanno facendo tante cose e c'è quest'area che diciamo così in questo momento è molto degradata c'era un ex anche centro sociale è abbandonata per certi versi noi abbiamo realizzato questo progetto che tra l'altro tra i progetti presentati a PNRR in graduatore è un quarto del nord Italia quindi è piaciuto molto anche perché quando mi hanno fatto la progettazione abbiamo previsto un utilizzo anche di una serie di accorgimenti di sostenibilità e che rendessero quanto più il sito che prevede appunto un centro di raccolta e il centro del riuso il più come si dice integrato possibile a quello che ha lo spazio circostante tant'è che noi stiamo anche lavorando con i soggetti che hanno in gestione la parte sportiva proprio per far capire che c'è un modello di sostenibilità e di circolarità che include il benessere delle persone e il benessere ambientale e che non c'è non si deve avere paura di un qualcosa che è finalizzato al recupero dei materiali e quindi alla sostenibilità per cui qui su Via Bartolomeo Bianco in questa zona è previsto ed è stato finanziato quindi noi abbiamo già siamo già in una fase abbiamo un progetto dobbiamo entrare nella fase della progettazione definitiva e poi avviare il lavoro e realizzarlo nel giro di pochissimo tempo un paio d'anni al massimo e questo è ecco qua c'è questo rendering di quest'area dove si vede anche questa zona verde di parco che rimarrà davanti alla palazzina che verrà utilizzata per il centro del riuso dove tra l'altro è previsto di installare anche un parco giochi inclusivo per il quale ha chiesto finanziamento il comune quindi veramente l'obiettivo è quello di dare spazio ai cittadini e fare in modo che non si abbia paura di un qualcosa ripeto lo ripeterò alla nausea che è un servizio non è una servitù soprattutto nella parte di centro del riuso perché assolutamente è una no waste area cioè un'area dove non ci sono i rifiuti quando è a riuso non si parla di rifiuti i rifiuti saranno nel centro di raccolta centro di raccolta che ovviamente avrà delle caratteristiche e dove non girano i mezzi di amio cioè non vanno i camioncini dell'amio a scaricare i rifiuti che raccolgono per strada questo spero che sia chiaro a tutti l'abbiamo già detto veramente fino alla nausea ma andrà il cittadino a portare i suoi rifiuti quindi questo è un po' ecco qua c'è ancora una parte indicata a quello che sarà il centro del riuso l'obiettivo ovviamente è quello di recuperare un'area di snessa e qualificare il quartiere tra l'altro un quartiere questo quello di cui parliamo che è oggetto continuo di discarica abusive e di abbandoni cioè la discarica abusiva l'abbandono di chi probabilmente non sa non vuole andare al centro di raccolta non vuole conferire certi tipi di rifiuti correttamente o che è soggetto è una è un costo per la collettività perché comunque noi poi ad un certo punto dobbiamo andare a recuperare questi materiali crea degrado crea sporcizia e crea comunque difficoltà a tutto il contesto locale in cui ci si trova a stare quindi un centro di raccolta è sicuramente un qualcosa di virtuoso poi io non so se a Milano nella zona loro il rapporto che c'è con il centro di raccolta passiamo a Milano se si st'accordo perché vabbè avere un'informazione sulla situazione dei poli dell'economia secolare milanesi però volevo avere anche Davismara un'informazione su un'iniziativa l'ho accennato appunto quando l'ho presentato di questo recupero degli scarti elettronici che i cosiddetti RAE in un contesto un po' particolare sono i carceri di Milano dove ci sono delle persone che sono addette a un dato mi pareva un'esperienza interessante su cui volevo eventualmente avere qualche elemento in più anche perché poi anche Genova su queste cose anche su questo settore c'è anche una cosa particolare di Genova Rismara ecco vediamo quelle riciclerie con Milano queste messe volevo anche quelle barricate sì velocemente riprendo quello che diceva Tiziana perché a parte che il tono che giustamente ha usato rispetto al servizio di ritiro ingombranti gratuito è significativo di un vissuto comune anche a Milano cioè il problema è che con questi noi le chiamiamo riciclerie voi le chiamate centri di raccolta isole ecologiche uniamo due aspetti il primo è di tipo legato alle condizioni al decoro delle nostre città cioè quello di evitare le discariche abusive che anche noi a Milano nelle zone periferiche riscontriamo ma poi di intercettare delle frazioni che comunque sono delle frazioni tornando al tema della miniera urbana importanti perché sono magari i mobili che possono essere riciclati piuttosto che riutilizzati o addirittura apparecature elettriche elettroniche cioè frigo piuttosto che elettrodomestici ecco l'idea di Milano è quella che vedete noi abbiamo cinque riciclerie noi le abbiamo chiamate storicamente così che sono delle aree attrezzate proprio per quelle frazioni normalmente rifiuti di grosse dimensioni o rifiuti che non vengono raccolte col sistema porta a porta che vi ho descritto cinque che però sono poche rispetto a una città con un milione più di trecentomila residenti infatti il comune di Milano perché in questo caso l'aspetto strutturale è in capo al comune non ad alza che invece poi le gestisce ne ha previste altre tre altre tre che però sono progettate e qui non mi indilungo molto similarmente a quello che diceva la collega di Armio Genova cioè è stato pensato come un luogo in cui magari vengo con un oggetto per destinarlo a un'attività di smaltimento rifiuto o comunque di gestione rifiuti ma in realtà invece di andare a destra alla ricicleria al centro di raccolta vado a sinistra dove trovo un luogo che innanzitutto è un luogo che stocca dei prodotti che hanno ancora una sua funzione in uso che vengono immagazzinati con dei criteri che non sono quelli della gestione rifiuti ma sono dei criteri merceologici cioè di prodotti che possono essere riutilizzati da altri soggetti e quindi nasce anche un luogo in cui si fa cultura ambientale come dicevo prima Tiziana ecco il diciamo che questo tipo di pratica è una pratica molto importante perché aiuta ripeto da un lato a riciclare degli oggetti che hanno ancora in me una funzione in uso e dall'altra premiene invece il fenomeno gravissimo dell'abbandono dei rifiuti ingombranti questa cosa per quanto riguarda Milano è unita anche a delle attività più di comunicazione poi passo a parlare di di laborare che noi abbiamo fatto con due iniziative che velocemente vi cito una è questa del del fuori salone in cui per due anni abbiamo lanciato utilizzando un veicolo importante mediatico che è appunto il fuori salone e tutta l'attività fuori dalla fiera espositiva dei mobili che abbiamo chiamato A Wanting Furniture che è praticamente quindi arredi immobilia indesiderata non voluta giocando sul fatto di aiutare i cittadini o comunque a chiunque guardi questo catalogo digitale abbiamo fatto riferimento a delle strategie che abbiamo chiamato strategie circolari cioè di possibilità di dare nuova vita a degli oggetti fondamentalmente mobili o complementi d'arredo che magari invece avremmo nel migliore dei casi fatto ritirare con servizi ingombranti portato in ricicleria o invece abbandonato l'altra iniziativa sempre per prevenire in questo caso la produzione dei rifiuti è stata un'idea che ci è nata con i colleghi di comunicazione del trasloco sostenibile l'abbiamo chiamato così che è un catalogo che abbiamo pubblicizzato soprattutto nel momento in cui si venivano ad insediare dei nuovi quartieri Milano in questo momento è al pulmine della riqualificazione di aree anche nel caso delle nostre nuove riciclerie il comune ha scelto aree che erano aree problematiche cioè di discariche abusive laddove invece si insedia un nuovo quartiere la possibilità invece di conferire con i nuovi residenti sul tema della riduzione della prevenzione dei rifiuti ha dato luogo questo catalogo in cui abbiamo detto una serie di abbiamo indicato una serie di suggerimenti per evitare di portare tutto a ricicleria perché magari erano cose che si potevano condividere con altre persone si potevano riutilizzare o riciclare arrivando invece al tema della laborai qui invece è un'iniziativa sempre di economia circolare quindi un'iniziativa legata alla sostenibilità ambientale in cui però la sfida è stata anche quella della dimensione sociale della sostenibilità e molto brevemente il progetto nasce nel 2018 come vedete nella slide e la provocazione fondamentalmente è venuta da parte di Regione Lombardia dall'amministrazione delle carceri milanesi e dal Comune di Milano che avevano diciamo come elemento comune come obiettivo comune quello di creare occupazione all'interno di un carcere cittadino la scelta è caduta sul carcere di Bollate che è proprio nei confini estremi della città di Milano che è un carcere modello dove però in questo caso la grande possibilità che è stata data per la realizzazione del progetto è stato un investimento di circa 2 milioni di euro da parte di Regione Lombardia che ha finanziato la realizzazione di un capannone di 3.000 metri quadrati proprio all'interno del carcere e a questo punto il comune di Milano insieme alla Regione Lombardia hanno chiesto alle varie partecipate se era possibile attivarsi per creare appunto un'attività industriale e la proposta è stata fatta ad ANS che quindi nel 2018 ha creato una società ad hoc che si chiama Laborae che è controllata al 100% da ANS io ne sono amministratore unico e ha realizzato appunto all'interno del capannone industriale un impianto di trattamento di rifiuti elettronici l'attuale autorizzazione di circa 3.000 tonnellate all'anno l'impianto è appunto all'interno di questo di questo sito che ha un impianto fotovoltaico quindi è completamente autonomo anche dalla produzione dell'energia la tipologia di rifiuti che trattiamo sono indicate da queste tre categorie R2 R3 R4 che intendono l'R2 di fatto in frigo e in frigo congelatori gli R3 stiamo parlando di lavatrici scusate ho fatto confusione R2 è soltanto la categoria degli elettrodomestici quindi non i frigoriferi ma lavatrici lavastoviglie e forni d'incasso gli R3 indicano invece la possibilità di trattare monitor e schermi e gli R4 sono tutta l'altra gamma di la restante gamma di rifiuti elettronici che vuol dire fondamentalmente prodotti da ufficio quindi pc stampanti la telefonia e anche elettronica di consumo quindi tutto ciò che proviene da ambito domestico di elettronico di piccole dimensioni come possono essere giochi elettronici piuttosto che foni fono o tritatutto le attività vengono svolte in questo momento da sei detenuti che sono stati appunto coinvolti nell'attività da questo nuovo soggetto che è la laborai ed è un'attività che prevede soprattutto lo smontaggio manuale quindi la grande sfida è quella della capacità appunto dei detenuti anche con una formazione dal punto di vista elettrotecnico ed elettronico dello smontaggio delle varie componenti che poi sono avviate al recupero delle materie che sono materie molto preziosi anche qui il tema della miniera urbana è importante perché i rifiuti elettronici diversamente da altri rifiuti hanno anche questa sfida di contenere metalli preziosi o terre rare di cui l'Italia ma in genere l'Europa è priva e quindi di in qualche modo diminuire se opportunamente riciclate queste componenti la diciamo la dipendenza da paesi extra c per quanto riguarda le importazioni un chiarimento di recupero del punto di metalli rari per dire avviene immagino in altri in altri diambiti certamente avviene lo smontaggio che immagino sia anche una fase dedicata comunque importante nella fase successiva che recuperano certo perché anche non so banalmente le schede contenute nei pc o in altre apparecchiature ce ne è diverse tipologie a seconda anche appunto del diciamo dei cipe e delle componenti dei metalli preziosi o delle terre rare quindi la diversificazione avviene vedete che sulla slide c'è indicato scheda A la scheda A è quella che ha sicuramente più valore rispetto magari alle schede smontate da altri apparecchiature di meno valore quindi la separazione avviene poi per diversi flussi di queste tipologie di schede e avviate agli impianti che sono in grado anche perché appartengono di fatto all'industria metallurgica specializzata di recuperare queste componenti ma chiaramente la sfida è quella del conto economico cioè l'attività che viene fatta è un'attività che poi con la vendita e i ricavi legati all'attività di smaltimento che noi offriamo soprattutto ad aziende quindi ci occupiamo di cosiddetti RAI professionali deve coprire chiaramente i costi di tutte le attività compresa il costo della mano d'opera che poi è rappresentata prevalentemente dagli detenuti velocemente poi due progetti uno già avviato l'altro speriamo di prossima realizzazione è la collaborazione con un altro soggetto che si chiama Astelab che opera nel Torinese che è una società che storicamente si è sempre occupata di vendita al dettaglio all'ingrosso di componenti quindi di pezzi di ricambio per elettrodomestici che all'interno del proprio magazzino di vendita ha realizzato un altro laboratorio dove vengono occupate persone con diverse difficoltà con diversi svantaggi anche ex detenuti e lì l'idea è quella di dare nuova vita ad elettrodomestici che magari vengono di fatto o resi ai punti di vendita o anche magari ai centri ai centri di all'uso e che quindi con il loro know-how vengono riparati e rimessi sul mercato quindi venduti di fatto come prodotti rigenerati l'ultimo progetto che vorremmo avviare nei prossimi anni è quello di uno smontaggio dedicato agli schermi piatti in questo caso utilizzando anche magari una tecnologia robotizzata che permette di accelerare l'attività manuale dei detenuti garantendo però sicurezza velocità di esecuzione dell'operazione anche quello degli schermi piatti chiaramente è un mercato in via di crescita come tutto del fatto la produzione dei RAE e qui concludo per tornare al tema appunto della flessibilità delle nostre aziende che devono di fatto trovare sistemi di intercettazione magari anche di nuovi prodotti che arrivano poi di fatto sui mercati e quindi sulla produzione dei rifiuti nelle nostre città il tema dei rifiuti elettronici è sicuramente un tema molto importante proprio perché ormai non sono più neanche considerati una volta si parlava di una lavatrice o di un apparecchio o un televisore come un bene durevole ormai sono diventati dei veri e propri beni di consumo che nelle nostre case nelle nostre aziende magari acquistiamo e rinnoviamo con un rito che non era quello di soltanto 5-10 anni fa e quindi sta aumentando drasticamente la produzione di questi rifiuti che anche in questo caso non devono essere abbandonati sul territorio delle nostre città ma devono essere convogliati poi con tutti i sistemi possibili per essere poi avviati in impianti di riciclo come in piccolo anche quello di volevo sapere scusami i detenuti che fanno questo lavoro hanno uno stipendio sì assolutamente oltre a imparare anche un mestiere potenzialmente diciamo che poi è anche una possibilità quando noi in giro si dice il giorno dopo cioè a fine pena avere comunque anche la possibilità di un curriculum in cui aver detto di aver lavorato comunque in un'azienda all'interno delle carceri tenete conto che Bollate ha poi questa esperienza sia formativa che lavorativa nel senso che la maggior parte dei detenuti in quel carcere o studia anche a livello universitario o lavora quindi ha un'occupazione qualcosa del genere anche a Genova no? Dottoressa Mellini ma allora in realtà noi abbiamo diverse iniziative di recupero materiali noi allora con i RAE non siamo arrivati ho seguito con grande interesse questo questo progetto perché sta un po' in alcuni progetti che avevamo provato ad avviare poi devo dire che il covid ha colpito anche noi rispetto a progetti che stavano iniziando con il Don Bosco con questo tema del repercafè quindi insegnare i ragazzi delle scuole o comunque altri anche soggetti svantaggiati l'arte di recuperare o di aggiustare e mi collego soprattutto ad un altro tema che ho introdotto molto interessante cioè quello del come le nostre aziende devono veramente stare al passo del cambio delle abitudini quello dei modelli di consumo e penso ai mobili che una volta si comprava la cucina e si teneva 20 anni adesso magari la compra l'IKEA e la cambia di 5 anni piuttosto che l'abbigliamento quindi il rifiuto tessile la velocità di cambio d'uso perché costa poco e quindi ne utilizzo molto di più quindi la modifica delle prassi dei modelli di consumo richiede un costante aggiornamento per noi tornando invece al riutilizzo dei materiali a vari progetti noi un progetto che è piaciuto molto che è stato realizzato negli ultimi anni è quello per esempio della realizzazione dei parchi giochi e quindi del fondo base del parco giochi con il riciclo delle scarpe della ginnastica noi abbiamo fatto questo progetto qualche slide diciamo che illustra un po' come avviene se ci riesco lo condivido eccolo qua scusate vado all'inizio ecco questo è il nostro progetto che avevamo iniziato con con Esosport per il riciclo delle scarpe sono state individuate delle aree dove poter realizzare questi questi parchi giochi abbiamo iniziato la raccolta presso 20 punti di raccolta prevalentemente in pianti sportivi scuole centri ambientali supermercati o come si dice negozi specializzati in sport e ovviamente per realizzare un parco giochi servono circa 4-5 mila paella di scarpe della ginnastica sono state poi recuperate e abbiamo visto la realizzazione il primo era stato realizzato nel quartiere di Rivarolo con diciamo un grande evento e per agganciarci al tema dei centri del riuso ad esempio uno di questi giardini che abbiamo realizzato è in via Bologna dove realizzeremo il centro del riuso quindi avremo il centro del riuso con diciamo a fianco l'area giochi per bambini realizzata in questo modo sono gli esempi di quello che viene fuori poi ovvio che le iniziative di la nostra fabbrica del riciclo che i genovesi ricordano e che ahimè purtroppo anche questo abbiamo perso nel crore del ponte Morandi perché in quella zona noi avevamo tanta attività era veramente un esempio virtuoso di recupero di beni con la collaborazione con associazioni che impiegavano in quel caso si parlava più di ingombranti magari più lavori di falenea maria piuttosto che altre cose l'utilizzo di persone diversamente abili o comunque che avevano delle problematiche all'inserimento nella società con anche l'insegnamento di un mestiere che poteva essere quello di aggiustare questi beni quindi è interessantissimo appunto momenti come questi di scambio di idee perché io ho preso spunto anche dalle iniziative di Milano che sono sicuramente molto interessanti ma anche queste esperienze della Casa del Riuso quindi non ho ben capito se verrà arrivata è quella che appunto c'è stata io volevo ricordare che insieme alla distruzione della Casa del Riuso ci sono rimasti sotto anche degli operai AMIO che erano presenti assolutamente questa è stata questa tragedia è stata una tragedia immensa per noi la Casa del Riuso verrà e c'è il progetto allora dopo dopo la diciamo la perdita della fabbrica del riciclo allora intanto noi abbiamo avviato un'iniziativa stavamo realizzando un progetto europeo l'abbiamo sviluppato cambiato un po' con quest'ottica di realizzazione di centri del riuso diffusi quindi non un grande centro del riuso ma centro del riuso e diffuso e anche creazione di una di una web app finalizzata proprio a mettere in rete chi fa già il riuso perché ci sono tanti piccoli soggetti che fanno questa attività di riusers anche a scopo di lucro diciamo però non c'è niente di male l'obiettivo è sempre quello di recuperare i ben usati noi abbiamo realizzato in un piccolo centro del riuso a Coronata che è un piccolo fiore all'occhiello perché è gestito dagli amici di Coronata che sono un gruppo di volontari che si prendono cura diciamo di quel quartiere che hanno sempre collaborato con Amio dando veramente un grande contributo al decoro del quartiere noi avevamo in quell'area un nostro locale che abbiamo messo a disposizione e lì è stato realizzato un piccolo centro del riuso nell'ambito di una rete di centri del riuso abbiamo fatto una sorta di franchise del centro del riuso con una rete che si chiama Surplus con un nome e un modello anche di allestimento interno che abbiamo realizzato insieme all'Università di Genova al Dipartimento di Architettura e Design e che diciamo così plastifica i centri del riuso in tre categorie small, medium e large a seconda della grandezza questo che abbiamo realizzato uno small adesso siamo in lavorazione nel senso che ci sono i muratori che stanno finendo di realizzare quello al mercato di via Bologna che ripeto sarà pronta a fine settembre e che avrà un allestimento interno con questi blocchetti che poi servono banalmente sono scaffali per mettere in vetrina i beni perché la logica come diceva anche il collega è quello commerciale ma a parte che lì ci sarà solo scambio di beni non sarà un'attività commerciale per allestire diciamo questo centro medium per la realizzazione di tutto l'allestimento ma anche per acquistare poi i supporti multimediali per fare attività all'interno di formazione eccetera abbiamo anche ricevuto tramite il comune un finanziamento che coprirà totalmente il posto i materiali soprattutto le scaffalature interne verranno realizzate da piccoli artigiani che ci garantiranno l'utilizzo nell'ambito dell'operatività di persone che diciamo hanno necessità di rintrodursi nel lavoro quindi anche con uno scopo sociale e quindi abbiamo questo per prima poi i due che abbiamo visto con il progetto PNRR quindi l'idea e il progetto dei centri di riuso va avanti ma perché è nei nostri obiettivi quello di fare prevenzione e quindi di lavorare anche sul riuso e non soltanto sul riciclo mi piace molto il nome delle riciclerie che evoca qualcosa di bello non so come dire perché anche il nome deve essere evocativo di qualcosa è importante questo aspetto dico anch'io è importante trovare un nome diverso agli oggetti che provano facciamo anche un po' di Amarcorn il nome è stato dato da mio vecchio capo che ha chiaramente in pensione da tanto tempo che negli anni 90 era andato a Parigi e aveva visto le famose descetterie lì l'idea è nata dal fatto che ma come poi è avvenuto in tutte le nostre città sia Genova che Milano di prendere magari non so i sottopassi in quei luoghi dove tradizionalmente o c'erano i crocià o c'erano delle discariche abusive andare invece a mettere questo luogo che nessuno comunque avrebbe sfruttato magari da un punto di vista o commerciale o addirittura residenziale e quindi si sono portati a casa proprio il layout la planimetria di una di una decetterie e la prima l'abbiamo fatta qua nella nostra sede storica in via oggettina 25 con un cartello in cui si spiegava il cittadino arriva con la macchina deposita e poi la traduzione è nata appunto da questo collega che ha detto perché rifiuteria non era bello invece ricicleria c'era già questo in luce questo aspetto dell'economia circolare e quindi ce la siamo ottenuta insomma stiamo avviando un po' verso la fine di questa lunga interessante chiacchierata mi pare che anche ci stiamo scambiando delle idee io spero che questa cosa sia stata utile per entrambi volevo finire su un argomento in cui forse vabbè non so se Genova in questo caso ha qualcosa in più da dire ed è quello del compostaggio domestico cominciamo con Genova come della nostra città e poi ovviamente a Milano sì allora noi diciamo che il compostaggio rientra un po' nell'ambito della prevenzione o comunque di un modo interessante e utile di gestire o trattare di scarti quindi dei cibi ovviamente è più dedicato a chi poi qualcuno lo fa anche senza il giardino però si presta molto a chi ha la possibilità di avere uno spazio un spazio vero non balcone fiorito come posso dimostrare io se volete noi abbiamo abbiamo fatto diverse iniziative e quest'anno abbiamo iniziato con i corsi di compostaggio perché il modello è faccio il corso si partecipa al corso di compostaggio perché comunque diventare compostatore non è una cosa così banale diamo in dotazione la compostiera quella tradizionale e poi ovviamente il cittadino fa la sua attività c'è un sistema di controllo che è dettato da norme appunto regionali viene imposto sul 15% dei compostatori però l'idea è sempre più quella di arrivare alla creazione di una comunità questo albo dei compostatori che sembra quasi un po' una cosa burocratica dovrebbe diventare poi una comunità e diciamo che adesso non so di risparmio su questa buona presentazione magari poi la mando ve lo risparmio perché adesso mancano veramente solo pochi minuti e quindi c'è anche un piccolo gravio diciamo così sulla sulla tassa rifiuti e questo credo che sia un po' per tutte le città su Genova è minimo 10 euro è quasi simbolico ci sono città dove lo sgrave è molto più importante addirittura una percentuale importante su tutta fino anche al 30% sulla parte variabile della Tari quindi è interessante ovvio ci sono anche realtà dove è più facilmente controllabile il fatto che si usi il compostaggio e non si conferisca il rifiuto umido alla Forsu al servizio di conferimento cioè solitamente dove c'è il porta a porta chi fa il compostaggio non ha tra virgolette diritto su quei comuni che conosco io qua della Liguria normalmente chi fa il compostaggio non ha poi la raccolta dell'umido perché si presuppone che lo utilizzi al compostaggio anche se in realtà non è che va tutto utilizzabile e utile per il compostaggio determinati scarti diciamo alimentari non sono conferibili carni varie scarti che poi possono essere anche poi problematici ho praticato il compostaggio quando avevo il giardino e qualcosa ho tirato fuori mi piaceva molto devo dire che le farò un corso personale le farò un corso sono un po' di più a Milano cosa su questo cosa cosa state allora la capacità di adattamento dei milanesi sapete che noi ci siamo inventati questa cosa allora chiaramente il tema del compostaggio domestico è un tema che è difficile da fare attichiere a Milano per proprio la poca presenza di giardini sì poi ci sono i giardini però sono gestiti poi dal condominio quindi il tema del compostaggio domestico su un balcone sul terrazzo è molto limitato però in realtà abbiamo una richiesta anche per gli altri comuni che poi l'AMS segue di fare anche noi dei corsi e delle guide però una cosa che mi piace condividere con voi è questa sempre nell'ambito della circolarità un elemento quasi di comunicazione che abbiamo sfruttato e lo vedete sull'immagine a destra è stato quello di in una serie di situazioni quindi mi riferisco a gli orti didattici quindi quegli orti che in molte scuole milanesi adesso gli insegnanti stanno realizzando nel giardino della scuola negli orti condivisi che sono quell'esperienza che sta crescendo a Milano di zone diciamo soprattutto periferiche della città di proprietà del comune che vengono assegnate con una gara quindi con un concorso a piccole comunità quindi a soggetti che vengono gestiti come piccoli come piccoli orti ecco a questa realtà noi stiamo regalando il compost che vedete è stato insacchettato e che proviene dai nostri impianti quindi dai impianti di aduambiente questo chiaramente giocando sul fatto che il gesto di separazione della raccolta direzionizzata dell'organico poi effettivamente torna alle abitazioni in questo caso le scuole a questi orti che vi dicevo sotto forma di compost e quindi questa è un'iniziativa che è molto molto interessante in realtà poi la distribuzione delle compostiere da parte del comune di Milano è prevista per i prossimi anni con un piano poi di distribuzione diciamo molto molto sistematica a queste realtà tramite appunto sempre sempre AMSA e quindi sarà poi lo sviluppo futuro volevo ritornare a un argomento perché questo dell'utilizzo del compost e anche della riduzione della tari che accennava prima Tiziana mi fa tornare invece all'esperienza che noi abbiamo a Milano legata alla riduzione dei rifiuti che viene generata da soggetti importanti della città che sono poi coloro che realizzano il recupero delle eccedenze alimentari quindi mi riferisco a Banco Alimentare piuttosto che altri assoggetti che soprattutto dal 2015 quando c'è stato l'Expo che a Milano era tutto incentrato sul tema dell'alimentazione ma anche dello spreco alimentare e della gestione del rifiuto organico ha realizzato poi veramente una rete capillare molto molto importante che non è fatta soltanto da grandi associazioni diciamo legate al no profit ma che è arrivata addirittura a degli esempi molto semplici volevo farvi vedere una slide velocemente che è questa che è un'associazione di ragazzi si chiama Le CUP che praticamente già da diversi anni opera a Milano ai mercati ambulanti quindi ai mercati all'aperto che vi citavo prima quindi praticamente questa associazione si è messa d'accordo con diversi ambulanti dell'ortofrutta di una decina di mercati e praticamente quella parte di frutta e verdura che il mercatale non avrebbe portato giorno dopo in un altro mercato viene donata a questa realtà che quindi ha allestito un piccolo banco all'interno del mercato all'aperto in cui poi le persone bisognose vanno a prendere con delle borse la frutta e verdura che è ancora assolutamente consumabile questa operazione è molto significativa perché poi tra l'altro ha permesso di evitare che queste persone bisognose che normalmente alla fine del mercato prima dell'arrivo dei nostri mezzi e dei nostri operatori che portano via lo scarto andavano invece a rovistare nelle cassette abbandonate dagli ambulanti e se li portavano a casa allora anche questa cosa è importante perché ha realizzato comunque un obiettivo sociale di coinvolgere questi bisognosi che danno una mano ai ragazzi di Recoup a recuperare la frutta e la verdura tenete conto che durante il Covid tutti i mercati di Milano eccetto l'ortomercato quindi il mercato centrale erano stati avevano sospeso l'attività quindi i ragazzi di Recoup hanno chiesto al comune d'ortomercato di poter fare la medesima operazione all'interno dell'ortomercato dove chiaramente gli scarti di frutta e verdura ancora utilizzabili sono altissimi e questa cosa è proseguita anche dopo il Covid generando poi un flusso di prodotti ancora utilizzabili destinati chiaramente a Caritas a Croce Rossa quindi a denti che si occupano poi di attività di questo genere l'ultima cosa nel caso di soggetti privati quindi supermercati ristoranti altre attività connesse alla ristorazione collettiva che aderiscono ad uno di questi circuiti hanno la possibilità in questo caso di ottenere fino a questo caso al 20% della parte variabile dell'Atari una riduzione e quindi ecco questo è un altro modo per tornare poi al tema iniziale di ridurre la produzione di rifiuti dando nuova vita in questo caso a prodotti alimentari bene io direi anche questa è una bella idea siamo arrivati praticamente alla fine ecco direvo a Maria Teresa se c'era qualche domanda perché qualcosa forse abbiamo già risposto in corso d'opera se c'è qualche domanda abbiamo già risposto ma è rimasta in chat due osservazioni di Enzo che fa ritornare all'isola ecologica del Lagaccio e la domanda è per la dottoressa Merlino la prima è la preoccupazione dei cittadini di San Teodoro che temono un aumento del traffico veicolare a causa e la seconda interessante per l'ex mercato di Via Bologna in ristrutturazione era stato proposto di posizionare dei pannelli fotovoltaici e a questo proposito Enzo osserva che sarebbe interessante proporre una comunità energetica rinnovabile solidale nella zona del Lagaccio che è una zona tipicamente di povertà energetica dei cittadini del quartiere Allora rispetto al punto primo si so che è un tema molto divattuto ma in realtà non ci sono numeri tali anche perché sarà poi dedicato all'unicipio e prevalentemente al quartiere di aumento di traffico veicolare adesso voglio dire in quella zona ci sono o quantomeno sicuramente non di traffico veicolare di mezzi di grandi dimensioni o mezzi d'opera nel senso che numero uno Amium non lo utilizza come proprio centro quindi i mezzi di Amium non ci vanno i mezzi che ci saranno saranno quelli diciamo per lo svuotamento e quindi la presa dei discarrabili che sono i grossi contenitori dove verranno conferiti i rifiuti al centro di raccolta ma in realtà non ci sono volumi tali da aumentare il traffico poi queste prese vengono fatte prevalentemente in ore notturne dove non c'è particolare traffico quindi non non si prevede aumento di traffico veicolare se non quello delle persone che magari andranno al centro di riuso al centro di raccolta che ripeto sono diciamo locali ma non immagino più traffico di quello che può portare adesso il campo sportivo piuttosto che può portare un supermercato magari lì vicino e sul mercatino di via Bologna allora lavoriamo per fasi in questa prima fase ci dedichiamo a ristrutturarlo e a realizzare tutta la parte interna sui pannelli fotovoltaici è sicuramente una un'idea un qualcosa si può sviluppare non è ovviamente un centro che è particolarmente il centro in sé energibor e quindi sul tema delle comunità energetiche è un tema complesso su cui vanno fatte delle valutazioni analisi rispetto anche a quelle che sono le normative legate alle comunità energetiche ci si può assolutamente ragionare in questa prima fase lavoriamo per la realizzazione entro settembre poi vediamo eventualmente di migliorarla ancora una mano alzata di Enrico si salve voglio voglio ringraziare per questa iniziativa che ho seguito con molto interesse e saluto Federico Valerio che ci siamo incontrati ci vediamo e io vengo dai castelli romani noi i castelli romani diciamo che come raccolta differenziata ci attesteremmo tra il 70 e l'80% a seconda dei comuni però Roma non supera il 42 43% adesso la cifra esatta non la conosco e c'è questo problema grave che incombe dell'inceneritore su Santa Palomba e il comune di Albano ha visto nel suo territorio la discarica di Ronciliano per molti anni ha accolto i rifiuti che provenivano in gran parte da Roma e io ho ascoltato molti accorgimenti tecnici sicuramente utili mi chiedo se sono applicabili pure nel contesto romano perché la configurazione dei palazzi eccetera il problema è lo spazio cioè avere la possibilità di fare porta a porta ecco io questo è un problema fondamentale che io mi pongo bisognerebbe conoscere bene il caso particolare mi fa piacere molto che Milano però mi pare di aver capito sta sul 63% giusto? 62% quindi vuol dire che si può andare ben oltre insomma il 43% di Roma voglio però chiedere se ritenete che sarà possibile aumentare dal 62% arrivare anche all'80% a Milano eh sì a Milano e se poi pensate anche di introdurre qualche esperienza di raccolta differenziata con la tariffa cioè voi già avete il piano tariffario cioè non è purtroppo per esempio noi a Castelli Romani ancora si paga la tassa la tariffa ma da voi è possibile c'è l'idea di introdurre la tariffa? c'era anche questa domanda che magari brevemente possiamo sentire se c'è se non c'è cosa si intende fare è importante che in passaggio la tariffa puntuale Milano cosa fa? sì allora noi attualmente siamo anche noi con la Tari quindi di fatto tenete conto però che adesso non so se Agno ha in seno anche la gestione della Tari perché in realtà il soggetto a Milano coinvolto è il settore tributi del comune quindi noi di fatto abbiamo qua un contratto di servizio con il comune detto questo però l'idea di passare a una tariffazione puntuale c'è la vera difficoltà è legata al fatto che non c'è un'associazione diretta tra il produttore domestico quindi il nucleo familiare rispetto a un cassonetto con nominale cioè mi spiego meglio un cassonetto della carta o due cassonetti della carta posizionati in uno stabile di dieci famiglie ricevono il materiale che proviene da questi dieci nuclei quindi di fatto bisogna in qualche modo trovare il modo di differenziare il conferimento diciamo che l'esperienza in arte anche nei comuni di nitrofi gestiti da l'Usa sono invece quelle legate magari a sistemi di identificazione del sacco residuo cioè del sacco per l'indifferenziato in cui chiaramente poi la tariffazione è in proporzione rispetto alla riduzione dell'indifferenziato a favore degli altri sistemi di raccolta del 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 ciclabile quindi sicuramente c'è la volontà del comune di Milano e anche nostra perché chiaramente la progettazione è congiunta di applicare questo tipo di sistema sul tema però del 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 superamento dell'attuale livello ma su questo poi chiedo anche alla collega di Genova sicuramente i piani i piani strategici del comune e di AMSA nei prossimi anni sono quelli di ulteriormente intercettare una parte di rifiutore inciclabile che comunque finisce o disperso nel territorio citavamo prima degli esempi o comunque in maniera assolutamente non corretta all'interno dell'indifferenziato allora su quello diciamo che adesso in maniera molto sintetica perché potremmo parlare delle ore però noi a Milano notiamo che sicuramente c'è stato un grande cambiamento di consapevolezza e di educazione ambientale da parte delle famiglie e diciamo dei nuclei domestici notiamo invece ancora un gap per quanto riguarda la raccolta differenziata fatta dalle cosiddette utenze non domestiche quindi le utenze commerciali piuttosto che anche i grandi building che ci sono a Milano che sono uffici quindi a Milano c'è soprattutto settore terziario e lì guardate facendo delle analisi merceologiche è evidente che la produzione preponderante è di materiali cellulosici di carta e di elettronici ecco lì molto c'è da fare sicuramente quindi diciamo che le sfide sono anche legate a quelle oltre però a lavorare perché sapete che la percentuale della coppa differenziata è fatta da una frazione quindi oltre a lavorare sul numeratore cioè aumentare il flusso di materiale riciclabile si può lavorare sul denominatore quindi su la base totale dei rifiuti prodotti che è una bella sfida perché ripeto è anche molto legata poi al livello di gestione non fatta dall'azienda municipalizzata piuttosto che dal gestore della raccolta di rifiuti rispetto invece a gestori privati quindi se molte aziende si avvalgono di questo è chiaro che cambia poi il totale della produzione dei rifiuti quindi questo è un altro elemento di differenziazione detto questo però le leve sono queste migliorare gli attuali sistemi sempre di più personalizzando rispetto a quello che dicevamo prima cambiamenti di modelli di acquisto e di consumi e dall'altro maggiore consapevolezza soprattutto dai grandi produttori faccio proprio un esempio velocissimo ci raccontavamo con Tiziana stamattina il lavoro che ad esempio abbiamo fatto con una nota a casa di fast food piuttosto con un grande soggetto milanese di delivery di food delivery perché questi sono dei nuovi soggetti sul mercato allora lì ad esempio provare a collaborare in questo caso su McDonald's oppure in nome tranquillamente il coinvolgimento del consorzio Comieco è stato fondamentale perché poi McDonald's Italia ha testato l'utilizzo di nuovi imballaggi prevalentemente cellulosici che però di fatto possono essere messi nella raccolta della carta allora lavorare con questi gruppi che poi determinano di fatto la distribuzione e la vendita dei prodotti o degli imballaggi è fondamentale e quindi lo sviluppo futuro per arrivare all'80% che diceva il signor Enrico è sicuramente la modalità migliore per arrivare a quel tipo di obiettivo e finiamo con Merlino sì cerco di essere in progetto sì 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 cerco di essere telegrafica e rispondo anche alla domanda rispetto a un contesto che è quello genovese che può essere simile per certi aspetti a Roma dove non c'è la possibilità di applicare un porta a porta quantomeno condominiale quindi come si fa gli obiettivi si possono raggiungere noi abbiamo in prima battuta come dicevo l'obiettivo al 65% nel 2024 abbiamo già fatto passi da gigante siamo passati al 43% abbiamo superato il 46% abbiamo l'obiettivo del 56% quest'anno per arrivare al 65% con l'installazione delle eco-isole tutte le eco-isole che stiamo installando hanno la predisposizione per l'accesso controllato quello è il sistema per il controllo dei conferimenti che è funzionale all'applicazione della tarifazione puntuale aggiungo il cassonetto dell'indifferenziato se vedete o secco residuo ha uno sportello che si apre con un cassetto che è di un volume di fatto contingentato sono circa 40 litri è l'equivalente del mastello allora nella logica della tarifazione puntuale c'è una tariffa di base che viene pagata da tutti e copre il costo diciamo del conferimento del rifiuto indifferenziato che in qualche modo si calcola diciamo così come prevedibile quindi diciamo un conferimento alla settimana come si fa nel porta-porta conferisco una volta alla settimana il secco residuo un conferimento alla settimana quindi 52 apertura alla settimana incluse nella tariffa quelle aggiuntive vanno diciamo a tariffazione puntuale quindi pago di più più rifiuto indifferenziato quindi nella logica di chi inquina paga considerando l'inquinatore chi diciamo butta rifiuto indifferenziato e non fa la differenziata noi controlleremo i conferimenti i nostri cassonetti quelli nuovi ad accesso controllato sono già predisposti per il controllo conferimento di tutte le frazioni in modo poi da gestire le eventuali anomalie poi ovviamente sarà tutta una gestione elettronica perché se non abbiamo il supporto da parte dell'elettronica o comunque di sistemi informatici di controllo poi si rischia di andare in sistemi diciamo così che non sono scientificamente elaborati per poter dare un dato sicuro quindi controlleremo tutto per non avere fenomeni di chi non vuole pagare di più e che mi butta materiali non conformi nella plastica nella carta e quindi aumenta l'inquinamento delle frazioni recuperabili con tutti i problemi che abbiamo visto quindi l'obiettivo della raccolta differenziata c'è l'obiettivo della tarifazione puntuale c'è e lavoriamo tutti per raggiungerli prima possibile e poi anche noi superare questo 65% io ringrazio tantissimo i vostri interventi sicuramente molto interessanti e molto sottili direi che potremmo darci un appuntamento tra un anno se siete d'accordo volentieri per fare un po' il punto perché mi sembra interessante anche perché siamo veramente di fronte una forte evoluzione di questo fenomeno quindi vi ringrazio di nuovo ringrazio anche chi ha partecipato ha contribuito al successo di questa puntata quindi lo zenzero che ci ospita Maria Teresa Tuccio che appunto ha fatto la gestione insieme a Cristopher Garaventa che ci ha garantito un buon un buon collegamento e farà anche un come dire un vantaggio di questa trasmissione per renderla più stella nella fase di registrazione ringrazio anche Carola Sessarego che ha fatto le ha curato la grafica di tutte queste nostre serie infine Antonio Manti e Natalini che sono qui presenti che hanno dato la loro mano come assistenza che hanno la possibilità allora grazie a tutti e buonasera e do la parola a Maria Teresa per qual è il prossimo appuntamento cosa esatto prima di chiudere vediamo la prossima conferenza che sarà il primo giugno e avremo con noi Lorenzo Maggioni e scusate e Alberto con falogiere grazie che ci parleranno rispettivamente di biometano e compostaggio restiamo sull'argomento approfondendo approfondendo un po' di più sarà interessante anche questo punto grazie a tutti buona serata grazie buona serata a tutti